E si, godo, 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 godo e finisce qui la partita all'Olimpico di Roma, la Roma batte 3 a 1 la Fiorentina e si porta questi primi tre punti a casa di questa prima giornata di Serie A Ciao ragazzi e bentornati in questo video, qui è già perciò oggi siamo andati qui in un nuovo video, siamo appunto qui per commentare il post partita di Roma-Fiorentina che finisce 3 a 1 per la Roma La Roma che vince una partita con sofferenza perché ha sofferto la Roma, però se la porta a casa con la cattiveria ragazzi si porta questi tre punti a casa con una doppietta di Jordan Veretout e un gol di Mkhitaryan e un super Abram Prima di commentarvi della partita, di analizzarvi bene la partita vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, una bella condivisione, se siete nuovi iscrivetevi mi raccomando è gratis al canale, attivate la campanellina Vi ricordo che è uscita la live reaction, andate a recuperare la live reaction, i post partiti di oggi e quelli di ieri e vi ricordo che domani forse faccio anche le pagelle di Roma-Fiorentina e parliamo un po' del calcio mercato della Roma in generale domani pomeriggio Fatemelo sapere se volete, faccio una bella live Parlando della partita, innanzitutto vi ricordo di seguire la pagina con la quale sto collaborando, ovvero Vena Romanista, pagina Instagram, una delle migliori fanpage a tema Roma E ovviamente seguite anche il loro sito che vendono maglie da calcio a tema Giuse Morigno e con il mio codice sconto avete un ulteriore sconto, le maglie non costano tanto ma sono di buona qualità e ovviamente con il mio codice sconto otterrete ancora uno sconto più basso Se ha acquistato il loro prodotto mi raccomando taggatemi su Instagram e vi riposto nelle stories Parlando della partita, allora, la Roma gioca bene, soprattutto nel primo tempo domina Subito arriva complice dell'espulsione di, non mi ricordo a che minuto, viene espulso al diciassettesimo minuto, viene espulso Drongoschi, il portiere della Fiorentina Fallo che c'era il calterrino rosso perché era un gioco pericoloso, era l'ultimo uomo Fallo su Abram e quindi espulso Drongoschi da Fiorentina in dieci Il gol arriva praticamente al ventiseiesimo, il gol dell'Armeno che vola come un treno Mkhitaryan e l'Armeno che vola come un treno Mkhitaryan assist fantastico di Abram, quindi fa l'assist alla Edin Dzeko Veramente un bel assist, i classici assist che fa Edin Dzeko, palla perfetta per Mkhitaryan che si fa trovare pronto Spiazza il portiere e gol 1-0 Poi ragazzi, al sessantesimo, diciamo nel primo tempo c'è la Roma che se non sbaglio va più volte vicino al gol Diciamo domina tutto il primo tempo Nel secondo tempo entra un po' sotto tono, la Roma gioca meglio la Fiorentina all'inizio del secondo tempo E appunto prendiamo il gol, bisogna dire che c'è stata un'espulsione per doppio cartellino giallo di Nicolò Zagnolo Espulso Nicolò Zagnolo, secondo me lì Mourinho nel secondo tempo ha sbagliato e doveva toglierlo Visto che si stava un po' innervosendo e quindi la partita si stava innervosendo Lui era già munito e doveva toglierlo Però si è fatta espelle, doppio giallo, rosso La Roma che anche la Roma rimane in 10, quindi 10 contro 10 Pareggia sul calcio d'angolo Cioè si fa trovare pronto su una palla inattiva Nicola Milenkovic Errore qui di Cristante che praticamente lo lascia da solo dentro l'aria L'unica forse bocciatura che doggia la partita della Roma è Cristante E Zagnolo ovviamente che ha sbagliato, ha rischiato di rovinarci la partita Perché la Roma ha giocato bene e complessivamente forse l'unici due insufficienti Cristante e Zagnolo Poi domani vedete le pagelle E ovviamente poi la Roma recupera, dopo 4 minuti arriva il gol di Veretupappà Veretupappà e turuturutututu e tarataratatata E Veretupappà e turuturututututu e paraparapappà E gol dell'1-0, gol del 2-1 Scusatemi, altro assist di Abramo Quindi Abramo oggi ha fatto una super prestazione Partito titolare, mi è piaciuto tantissimo Un altro bello assist tipo a Lady Ingeco E poi ragazzi, la Roma che tra l'altro prende anche una traversa con Tami Abram Su un cross di Carsdop dentro l'area Anzi, giocata fantastica di Pellegrini Che fa un sombrero su un difensore della Fiorentina Cross in mezzo per Abramo che stacca colpo di testa Che è alto 1,96m, altissimo Abram Cioè veramente è un gigante Prende la traversa e quindi ci va vicino già con Abram sul 3-1 E poi arriva la cileggina, arriva al 79esimo La doppietta di Jordan Veretupappà Veretupappà e turututututu taratatata E fa doppietta e non esulta perché ovviamente non esulta E qui stavolta l'assist l'ha fatto Shomurodov Che entra al secondo tempo Entra ragazzi, si è vista la qualità di Eldor Dell'attaccante Uzbeko Veramente forte, forte, forte Secondo me lui sarà una rivelazione quest'anno Veramente forte, forte, forte Shomurodov Mi piace tantissimo, proprio tanto E poi secondo me può giocare anche come esterno Perché poi quando è entrato ha giocato molto più da esterno Che da prima punta Diciamo si accentrava Mkhitaryan Veretup che si è inserito molto oggi Ha giocato quasi da trequartista Mentre Shomurodov ha giocato più da esterno Fa un assist bello con una bella giocata E serve Veretup da solo davanti alla porta La butta dentro Diciamo che complessivamente Ha avuto un po' più il possesso pala Forse la Fiorentina Infatti 59% Fiorentina 41% la Roma I tiri diciamo 11-11 La Roma ha fatto 6 tiri in porta La Fiorentina ha fatto più tiri in porta Però la Roma è stata più concreta dal punto di vista C'è stata anche una parata Se non sbaglio Una parata di Rui Patrizio Sul tiro di Nico Gonzalez C'è stato un miracolo di Rui Patrizio E poi dall'altra parte c'è stato anche un miracolo di Terracciano Non mi ricordo sul tiro di chi Mi pare di Zagnolo O di Mkhitaryan Non mi ricordo Ha fatto un miracolo Terracciano Comunque diciamo Complessivamente partita equilibrata Ma la Roma è stata più cattiva Ha messo quello sprint in più Per vincere questa gara Fatemi sapere una vostra E niente Da qui tutto Nel prossimo E bella ragazzi Sempre e comunque Forza Roma Dai Fatemi sapere se domani Volete le pagelle Se non è migliore in campo Ovviamente Vere tu E niente Vamos Ciao ragazzi Bella Vamos Ciao ragazzi Grazie.